Buonasera, siamo qui questa sera per una problematica che ci sta creando un ente regionale nominato Alsia. Precisiamo, ex ente di riforma, ESAB attualmente è Alsia. Purtroppo hanno creato degli errori in precedenza dove non hanno temperato dei documenti per dare la possibilità ai nostri genitori di poter acquistare dei terreni e attualmente ad oggi ci troviamo con un nuovo regolamento dove vanno a lievitarsi i prezzi ed ecco qua siamo alla catastrofe nonostante già attualmente abbiamo la crisi di mercato sui prodotti ortofrutticoli, il problema della calamità naturale che ci stanno distruggendo, adesso l'Alsia si sta prendendo gioco anche di noi. In che senso? Perché si sta prendendo gioco di voi? Perché a febbraio hanno pubblicato un nuovo regolamento dove come detto prima hanno fatto lievitare i prezzi degli acquisti di questi terreni e sono tanti quindi siamo impossibilitati ad acquistare questi terreni a questi prezzi. L'Alsia perché ha cambiato questo regolamento? Questo non lo sappiamo perché ha cambiato questo regolamento. La problematica però è che su questo regolamento è che se prima si chiedeva un'attestà di conduzione e si dava titolo gratuito ad oggi va pagato. Adesso chiederanno i canoni di affitti sui terreni però dico io perché loro non hanno fatto riscattare i nostri genitori 40 anni fa 30 anni fa quando hanno chiesto di riscattare. Quindi voi avete chiesto di riscattare? Sì 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 qua c'è un'intera documentazione. La documentazione noi l'abbiamo presentato in ordine. Sono stati loro che avrebbero dovuto mettere a posto una serie di raccomandazioni per proseguire. In che senso dovevano mettere a posto? Allora tipo mio padre 40 anni fa compra il possesso da un tizio, questo tizio fa l'atto di retrocessione e quindi con questo atto di retrocessione l'Alsia in tempo reale avrebbe dovuto retrocedere il suo terreno, riassorbirselo loro per poter procedere alla vendita a mio padre. Non l'hanno fatto per 30 anni ovviamente però nel proseguo di questo tempo mi hanno fatto una delibera di assegnazione a nome mio a prezzo vecchio dove tutti quelli nell'elengo li hanno venduti i terreni. A me come quelli presenti qua non li è stato venduto, come mi hanno fatto fare e penso anche agli altri una domanda d'acquisto. Però mancando sta retrocessione non è stato possibile proseguire. Ad oggi ci troviamo con questa problematica con prezzi lievitosi. La cosa peggiore è che in questo regolamento prima nel vecchio regolamento poteva acquistare solamente chi aveva la titolarità da coltivatore diretto o brocciando agricolo. Oggi invece possono acquistare tutti, avvocati, dottori, ingegneri, professori. Quindi questo vuol dire che questo regolamento fatto è togliere a noi poveretti e dare ricchi. Quindi l'appello che noi facciamo è quello di chiedere al presidente Bardi e all'assessore Francesco Fanello. La revisione di questo regolamento è un tavolo tecnico dove venga subito, urgentemente, annullato questo regolamento ma fatto in un mese, non in anni come sono passati già 40 anni. Questa è una situazione che deve essere risolta a breve. Quante persone ci sono nella vostra condizione? Tantissimi. Ma voi chiedete un incontro? Un incontro, un tavolo. Quindi nei tempi minori, guarda, nel giro di un mese, altrimenti stasera siamo qua, fra un mese saremo davanti alla sede Alsia con più persone.